profumo d'europa profumo d'europa che non sentivamo da tanto tempo io sono contento stasera stella rossa milan europa league si gioca in europa europa fortemente voluta dal milan questa europa league ricordiamo tutti la partita con rio ave lo splendido girone che abbiamo fatto e quindi il milan l'ha fortemente voluta e dobbiamo giocarla nel miglior modo possibile ottima prestazione splendida vittoria e si va concentrati e lucidi a giocarci il derby sono sicuro che questa sera i ragazzi si riscatteranno dalla bruttissima prova con lo spezia e arriveremo al derby lucidi come vi dico sempre con questa si esce e stasera questo mio lo può dimostrare ragazzi c'è chi gioca l'europa e chi non la gioca per fare una piccola battutina visto che sono tre giorni che mi scassa di maroni con sto fatto che sono la capolista e sorpasso la prossima volta stasera io gioco l'europa voi vi consiglio don matteo o chi l'ha visto ragazzi buon giovedì a tutti giovedì d'europa stasera stella rossa milan e andiamo a fare la probabile formazione di stella rossa milan ma ragazzi è una probabile formazione molto molto complicata rispetto al solito non si può nascondere il fatto che la partita di stasera e il derby siano talmente ravvicinati che comunque il derby può incidere molto sulla formazione di stasera e quindi veramente ho guardato dove guardo sempre le formazioni e chi dice una cosa chi dice un'altra è veramente molto molto complicato mettere insieme una formazione ci proviamo e quella che vi do adesso dovrebbe essere la più attendibile ma ci proviamo ragazzi iscrivetevi al canale mi raccomando grazie mille a tutte le persone che si stanno iscrivendo qua e si stanno iscrivendo su tiktok ragazzi perché anche su tiktok in 15 giorni abbiamo superato i 1000 iscritti e veramente mi fa tanto tanto piacere quindi grazie mille a tutte le persone che stanno facendo se la stanno viaggiando tra tiktok e youtube e poi ragazzi se non l'avete vista come vi ho detto ieri nella community andate a guardarvi la lettera di mister pioli e tifosi l'ho messa su instagram l'ho messa su tiktok purtroppo non posso pubblicarla su youtube per una questione che me la bloccherebbero per copyright e non posso assolutamente metterla perché avrei dei problemi sul canale se potete se avete la possibilità andatela vedere perché è veramente veramente stupenda ragazzi vi dico soltanto che i commenti che ci sono stati su tiktok sono stati bellissimi in neanche 24 ore ha raggiunto più di 30 mila visualizzazioni la lettera cioè veramente veramente stupenda ed emozionante andatela a vedere ragazzi guardiamoci la probabile formazione forza lotta vincerai non ti lasceremo mai non ti lasceremo mai di domenica allo stadio per vedere i nostri eroi non vi lasceremo mai non vi lasceremo mai allora ragazzi cerchiamo di mettere in piedi questa probabile formazione molto molto complicata da una parte dicevano gabbia poteva giocare titolare dall'altra gioca tomori dall'altra gioca ibra posto di manzukic dall'altra manzukic titolare non si capisce più niente perché è veramente veramente complicata questa probabile formazione c'è il derby tra tre giorni bisogna mettere una squadra fatta bene messa bene in campo che possa riscattarsi per la brutta prova contro lo spezia e secondo me questa che vedo adesso la più attendibile quella che io credo di più in questa formazione dovrebbe essere gigio donnarumma in porta calulu sulla destra teo hernandez unica probabilmente forse ce ne sono solo tre di di sicurezza questa sera solo tre giocatori che hanno giocato con lo spezia dovrebbero essere titolari il resto verranno cambiati tutti ripartiamo gigio donnarumma in porta calulu sulla destra teo hernandez sulla sinistra difensori centrali dovrebbero essere capitano romagnoli affiancato da tomori quindi riposo a chier sulla mediana benasser titolare altra altro titolare che c'era anche con lo spezia affiancato da meite quindi riposa frank che si andando avanti sulle due facce dovrebbe esserci anterebici da una parte sammo castiglieco dall'altra crunic rade crunic titolare al posto di cialanoglu da tre quartista e davanti per la prima volta marione manzukic titolare e io voglio vedere una bellissima gara da marione manzukic io voglio vedere una splendida prova ragazzi stasera vietato sbagliare vietato sbagliare per presentarsi lucidi al derby io voglio fare un post partita perché stasera la live reaction non la faccio ma voglio fare un post partita contento dei miei ragazzi veramente contento di questa squadra perché si devono riscattare e sono sicuro che lo faranno questa sera quindi ragazzi sempre positivi mi raccomando guardiamo la partita alle 6 e 55 dovrebbe essere quindi ragazzi abbiamo tutto il tempo per fare il post partita e per parlare bene dopo la partita spero di fare un post partita fatto bene poi volevo rispondere a un commento ragazzi che mi è arrivato sotto un video vecchio ma negli ultimi giorni mi è arrivato il commento è nata nella community un dibattito mi ha chiesto un ragazzo self ma chi preferisci tra lucaco e ibra chi è più forte tra lucaco e ibra io gli ho risposto secondo me non si può fare un paragone tra lucaco e ibra sono due mostri sacri del calcio sono due giocatori fortissimi magari con qualità anche diverse con delle ci sono delle piccole differenze ma tutte e due veramente veramente forti ma la cosa che incide più di tutti è l'età comunque un furbone che dovrebbe essere un intervista da quello che ho detto male io mi ha scritto sotto a me e a questo ragazzo che mi ha fatto la domanda eh ma che paragoni fai lucaco corre ibra è fermo ragazzo mio ti rispondo qua in diretta lucaco c'ha 27 anni ibraimovic ne ha 40 sono 11 anni di differenza 11 anni quando lucaco avrà l'età di ibraimovic voglio vederti qua sotto qua nei commenti e vediamo lucaco in che condizioni si presenta l'età di ibraimovic uno c'ha 27 anni l'altro ne ha 40 ma che paragone è normale che uno corre meno dell'altro ragazzi lucaco è nel pieno della sua forma in questo momento a 27 anni ibraimovic è un giocatore che l'anno l'anno scorso voleva ritirarsi cioè non c'è non c'è paragone e comunque voglio vedere lucaco all'età di ibraimovic innanzitutto se rimane giocatore ancora attivo e poi voglio vedere come si presenta poi ti voglio vedere sotto qua a rispondermi ciao a tutti ragazzi iscrivetevi al canale mi raccomando ci vediamo nel post partita di questa sera stella rossa milan dai ragazzi che siamo forti e sono sicuro che ci riscattiamo